Caos e tensione al Tribunale di Napoli dopo la pessima giornata di ieri, anche stamattina si sono registrate lunghissime file davanti al Palazzo di Giustizia, addirittura dalle 7 del mattino. E la tensione è diventata palpabile quando un gruppo di avvocati ha prima bloccato via Grimaldi, dove c'è uno dei tre ingressi al Palazzo di Giustizia, e poi ha tentato di sfondare il varco d'ingresso. Un vetro è stato infranto e due agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti. Due degli avvocati che hanno partecipato all'assalto sono stati identificati dalla Polizia e probabilmente saranno denunciati nelle prossime ore. Dopo gli incidenti, il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, facente funzioni Francesco Mastro Minico, ha dato disposizione per motivi di ordine pubblico di consentire l'accesso agli avvocati con la sola esibizione del tesserino e non passando per i metal detector. Una soluzione tampone che ha dato un po' di fiato agli ingressi del Tribunale Partenopeo, che dopo le restrizioni delle misure di sicurezza dovute ai fatti di Milano, è diventato un vero e proprio fortino in cui è difficilissimo entrare anche per chi deve lavorarci. Ma ascoltiamo gli avvocati e i testimoni in attesa da ore agli ingressi. Siamo qua da stamattina, onestamente. Poi va a finire che andiamo dentro, la mia causa stava alle 10, già sono le 10 e mezza. Che succede? Poi si accavallano le cause. Secondo me è una di fatica. Chi ha pausa? È una di fatica. Noi siamo dalle 8 e mezzo e pensa che veniamo da Edimburgo per questa causa che se sarà rinviata dovremmo rivenire e non sappiamo cosa dire altro. È una cosa vergognosa. Fortunatamente non sono tutti i giorni qua, però comunque ho buttato una giornata di lavoro per ottenere niente, perché probabilmente per l'orario della causa risulteremo non presenti. Non credo sia una cosa normale. Quello che sto vedendo stamattina è assurdo.